Man, Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Quando si parla di rosso pompeiano non si parla della tinta che usa un imbianchino kitsch, si parla di un colore che sa di antico, un rosso antico, ma non un ligure rosso antico, un rosso usato sulle pareti della Pompei classica, che invecchiando ha dato luogo appunto al rosso pompeiano. Questo colore meraviglioso appartiene alla nostra storia, al nostro territorio, e pensa, quello originale è ancora a casa nostra, è al Museo Archeologico. Vieni a vederlo e magari decidi di realizzare il tuo palazzo con del rosso pompeiano. Si di nuovo palazzo. Altrimenti potrebbe diventare rosso pompeiano il tuo salone. Si di nuovo salone. Altrimenti la tua camera, un quadro, una stampa, una mattunella. Forse è meglio se il rosso pompeiano te lo vieni a vedere al museo. MAN, Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Se sei d'accordo con l'argomento, diffondi, condividi, iscriviti per esempio a Cogito Ergo Sud. Nunaviglia Barzellet.